adesso aspetta che parta io ho silenzio eh io ho silenzio allora salve a tutti i soldati siamo finalmente in live sono in compagnia di venese 90 ciao a tutti questo video non sarà per chi lo vedrà dopo questa live non sarà una live in cui devo parlare di un argomento specifico sarà una live in cui parleremo più in largo di svariati argomenti due tra questi sarebbero la Naya di cui avevamo già cominciato a parlare prima ma sarebbe bello ricominciare il discorso adesso e il secondo invece parleremo di Kursk che mi aveva chiesto venese a 90 esatto si si sente l'ecco di microfono di venese ma raga viviamocelo se avete un problema potete comunque parlarne con lui su disco si sarò li accolgo a braccia aperte e il mito è imbracciato no no mi so più dal buon vecchio gnocco sui denti dopo dopo nel caso se la faccenda si fa seria passiamo al mitra sì in effetti è forse la maniera più civile per risolverla sì esatto allora allora pronti qua ottimo allora una delle cose di cui volevo parlare in questa live era sicuramente il discorso Naya mi ricordo che un po' di tempo fa avevamo ingaggiato in una discussione che riguardava validità o no della leva obbligatoria e la conclusione che avevo raggiunto era parlavo con Art anzi non era neanche in una live eravamo su discord io e Art e per alcuni paesi la leva ha senso per un paese come l'Israele per esempio avere una leva obbligatoria ha senso sono sempre costantemente in guerra con i loro vicini ma per un paese come l'Italia secondo te nella guerra fredda aveva senso nella guerra fredda sì come secondo me avrebbe senso adesso per un semplice motivo perché la società italiana è profondamente diversa rispetto al resto della società occidentale cialmanco europea che abbiamo e nella guerra fredda secondo me serviva un esercito di coscritti sul vecchio stampo delle due guerre mondiali poi ripeto la mia è un'opinione personale lascio la parola agli esperti ovviamente ecco io penso che la Naya io penso che la Naya al giorno d'oggi non servirà cioè allora per io la vedo in una maniera un po' rudimentale forse allora io per la Naya credo che al giorno d'oggi come immediata necessità militare non ne abbiamo bisogno ne abbiamo più che abbastanza mezzi e personale ecco quello che io credo serva è perché forse ci vorrebbe un po' io vorrei chiamare la disciplina ma non è neanche vero che durante la Naya la disciplina comunque al di fuori deserto non c'è secondo me i giovani in particolare anche la mia generazione dovrebbero imparare a dire signor si un po' più spesso ecco fondamentalmente questo è quello che penso ed è questo quello che penso un sacco di gente a cui l'ho chiesto onestamente l'altra cosa è che durante la Naya c'era tutto un sistema di cazzate come le definite un ex soldato di quel periodo che riguardano tutto il discorso del nonnismo dell'essere trattati male allora trovo ovviamente anche quelle persone che per esempio dicevano che il nonnismo era essenziale perché ti insegnava a gestire dei problemi però io credo che essere bullizzati in quella maniera non porti mai a nessuna parte ecco qual è la tua opinione a riguardo? allora il nonnismo su qualsiasi settore che sia nella vita civile, nella vita militare, al lavoro o se sei dentro un reparto delle forze armate è sbagliato è una cosa che va denunciata e secondo mio parere va assolutamente anche annientata perché il nonnismo non dovrebbe esistere questo però perché sì, sono d'accordo sul fatto che magari poteva formare l'uomo però se l'uomo lo formi anche senza il bisogno del nonnismo anzi secondo me il nonnismo porta anche a peggiorare poi dipende sempre uno come è in grado di affrontare la situazione allora io avevo un collega a lavoro che adesso ormai non c'è deceduto lui praticamente è stato vittima del nonnismo durante il servizio di leva è una conseguenza che se l'è portata per tutta la vita altri sono stati vittime del nonnismo durante la naia eppure anzi hanno detto è come se mi sono divertito hanno detto rompevano le balle un po' all'inizio poi basta in base a come reagivi tu però secondo me è una cosa sbagliata non dovrebbe nemmeno esistere l'unnismo da qualsiasi parte non solo nell'ambito militare perché poi c'è anche tutta quella parte di persone che anziché subire l'unnismo farlo gli erano completamente differenti posso fare l'esempio di mio nonno che era due metri dieci di più di soldato un montagna di muscoli non sono mai rotto le balle vabbè direi poi l'unnismo derivava anche dagli stessi ufficiali poi comunque che facevano l'unnismo quindi non è solo il discorso dei militari di leva come i nonni o i pivelli che avevano iniziato dopo il car il servizio di leva io penso che si concorda con me sul fatto che è una cosa sbagliata l'unnismo non dovrebbe esistere come il bullismo nelle scuole per dirti poi ripeto io per fortuna non ho mai subito l'unnismo e ci hanno provato con il bullismo però non gli è passata la voglia non so se mi sono spiegato ecco quindi insomma è una cosa sbagliata sì raga mi parlate dell'eco io l'avevo detto all'inizio della live che ci sarebbe stato eco in questa live non per dire ciao crei comunque è un piacere vederti a me adesso sto leggendo un commento di Valerio che dice che secondo me secondo me sì perché potrebbe creare una coesione tra i cittadini e promuovere anche un'esperienza utile della formazione dell'individuo io ti do ragione ma secondo me questo tuo punto di vista potrebbe essere più applicabile in un discorso di anziché parlare di quanto sia cattivo essere nell'esercito di quanto siano tutti i fascisti cattivi oppure il promuovere una leva obbligatoria secondo me sarebbe più efficace incentivare l'andare proprio all'entrare nell'esercito nel fare un concorso entrare nell'esercito farsi qualche anno così come soldato semplice come carrista questa cosa qua senza bisogno di specializzazioni solamente per appunto come dici te creare una specie di coesione possiamo dire così ecco secondo me applicato in questa maniera qua l'idea non serve male però deve essere una cosa volontaria non forzata né tantomeno obbligata neanche dai tuoi parenti per esempio tutto qua si chiedono se conosciamo il modello svizzero che io purtroppo non conosco anche se uno dei miei piani segreti era invitare uno svizzero che conosco a fare una live qua perché poteva raccontare storie interessanti e allora quello di cui stavamo parlando prima Venezia non so se ti ricordi era riguardante il discorso carristi era riguardante il discorso carristi sì stavo dicendo che stavo dicendo che a me sarebbe piaciuto fare quella serie sui mezzi della Naya in cui avrei voluto cominciare con la mia 47 e ti avevo chiesto di tuo papà esatto lui cos'era? era un conducente mio padre era pilota carri M47 durante il 1977 quindi il carro di conseguenza era già era già parecchi anni che era in servizio presso i reparti corazzati dell'esercito italiano e allora a riguardo di dati tecnici mio papà si ricorda poco e ne sa molto poco lui si è solo divertito tantissimo è stata forse l'esperienza più bella nella sua vita ma anche raccontato comunque di alcuni incidenti causati all'equipaggio tra l'altro lui stesso all'interno della camera di combattimento dell'M47 proprio che se ben ti ricordi che avevo fatto avevo dedicato un video io anche se non proprio eccezionale sull'M47 però che molti pareri molte opinioni di chi l'M47 l'ha pilotato e l'ha portato sia che diciamo durante il servizio di leva e non parlava di questo carro come insomma pieno di difetti soprattutto al motore e mio padre questi difetti non li ricorda però dice comunque che il motore molto spesso dava delle noie aveva dei problemi ti dico mio nonno considera l'M47 uno dei migliori carri su cui abbia messo il culo diciamo così lui ha solamente utilizzato gli M47 gli Sherman nel destramento e gli M113 lui dice che la cosa migliore su cui abbia messo le mani è proprio l'M47 lui era come l'antilicaro comunque che è una cosa divertente lui era troppo alto per stare all'interno di qualsiasi posizione dell'M47 quindi nella posizione del conducente lui era così quando era a fare il conducente o qualsiasi altra posizione doveva avere il boccaporto aperto se no non ci stava e quando dovevano combattere il boccaporto chiuso lui era nella posizione del comandante qui immaginatevi lui seduto dentro la posizione della cupola del comandante col boccaporto appoggiato sull'elmetto perché non riusciva a chiuderlo comodo ma penso che scusa è una domanda che fa Nekos che dice ma l'esercito attualmente vuole una leva secondo me no secondo me no perché la leva era anche fatta di gente non addestratta alla perfezione come uno che non avessi una specializzazione no difatti di queste cose ne hanno molto lamentato gli altri comandi dopo la Unisom che è l'esperienza nostra in Somalia nel 93 che dicono hanno dato la colpa ai militari di leva del fatto del la scarsa reattività in combattimento ma queste sono cose che ho sentito dire da chi in Somalia c'è stato non è niente di scritto non è niente di fonti ufficiali quindi prendete con le pinze quello che vi sto dicendo adesso in chat in videochiamata scusate io un'altra cosa di cui mi parlava mio nonno per esempio è tutto il discorso post-adestramento quando vai a fare le cose sul campo ecco ecco una delle cose dici dopo il car no no sei dopo l'adestramento base che ti spediscono in varie reparte e quando mio nonno faceva il militare c'era un discorso in merito cazzia quando ti vedevano a fare cose manuali tipo mio nonno per esempio hanno visto molto bravo a lavorare a smontare e rimontare il fucile e questa cosa qua l'hanno mandato a nicariste appunto per questo e così hanno fatto tutti quelli nella sua compagnia di prodotto di addestramento invece qualcun altro invece che l'hanno visto bravo nel muoversi agile eccetera gli hanno detto te vai a fare non lo so il paracadutista il lagunare si scema lui però anziché andare a fare lui doveva fare il carista e si è detto vado a fare il carista per il paracadutista per il paracadutista e quindi è diventato carista della polvere come dicevamo prima ogni unità italiana aveva di kerma aveva di kerma beh all'epoca si ma ti dico agganciando un discorso che mi fece una volta mio padre mi disse addirittura che nel tema imboscati ad esempio che sarebbe un'altra cosa da affrontare in questa in questa videochiamata ad esempio dicono tanti si lamentano sulla naia ah non è servita a niente perché a me ho preso uno straccio in mano solo pulito e basta mio papà ha detto così ha detto gli hanno dato uno straccio in mano perché probabilmente non sapeva fare altro era questo il discorso e da lì anche imboscato uno magari come tuo nonno che a maggior ragione l'hanno visto bravo sui lavori manuali appunto come dici te la meritocrazia l'hanno messo a fare una cosa che era in grado di fare punto e fine non penso che tuo nonno l'avessero sbattuto poi a pulire i cessi e da lì ha sempre pulito i cessi no insomma ha fatto ha fatto il carri scusate a proposito c'è una storia interessante perché lui a pulire i cessi c'è finito una volta una volta adesso te la spiego adesso te la spiego praticamente praticamente dovevano fare dovevano fare una missione di viaggio poi andavano via in convogno e dovevano accamparsi su una montagna o così solo che siccome volevano andare alle ragazze la sera perché era domenica era sabato sera la domenica non avrebbero fatto niente quel vecchio trapano di tuo nonno no aveva già l'amorosa che poi diventerà mia nonna erano preso ed erano andati appunto a fare questa missione solo che avevano non siano parli dietro le auto quelle loro personali loro personali mia nonna all'epoca aveva cosa aveva cosa aveva scusate non mi ricordo scusate un'auto della Fiat di quelle sport di quella volta tipo la 850 o la 120 c'è 850 sport o coupé quella degli anni 60 quella degli anni 60 sì ho tirato ho sfanato a caso non è che non mi ricordo assolutamente fatto sta che le avevano erano andati a ragazza la sera sono divertiti tutti i quattro sono tornati indietro perché loro non sapevano come avrebbero organizzato le macchine scusa come avrebbero organizzato le tende per il comandante eccetera hanno parcheggiato le auto nei cespugli sono andati a letto la mattina un urlo un boato che sembra cannonata scuote tutti quanti ed è il comandante dell'unità che si è trovato mamma mia la macchina di mio nonno davanti alla tenda penso che al momento si saranno mi ha detto che si è sentito un buato basente così attraverso tutto il campo però se la ricordo a distanza di anni gli viene da ridere scommetto perché all'inizio magari te la fai nei pantaloni perché dici mamma mia qua mi manda sotto processo invece invece poi negli anni se ci pensi ti viene da ridere perché è una cosa da ridere alla fine ma lui non si è preoccupato perché sempre c'è il discorso che la domenica avevano la giornata libera ecco vedo il discorso scusa se faccio una deviazione Peter il discorso dei giovani di adesso che è quello che si perdono secondo me su queste cose queste avventure questi ricordi che c'è la fine i 18 anni di oggi se non fanno qualche cazzata non sono contenti nel senso che per forza ci deve scappare il morto adesso non dico tutti però è così se ci pensi insomma riprenda la persona si chiaro non è che sto generalizzando però insomma se vedi bene nella massa insomma non trovi cioè adesso prova a fermare un diciotenne che ti dice che cosa su cosa sei divertito ubriaco fare il mona come diciamo gli altri in Veneto e basta perché se tutti i cellulari manciano non si parlano neanche tra di loro io sono il perfetto esempio del fatto che non parlo che miei coetanei in ogni caso però le mie belle esperienze le ho avute perché ho voluto averle io come può fare l'esempio perfetto Kerfenrir anche lei per esempio beve va a fare a Mona diciamo così però si diverte facendo qualcosa in più ecco c'è sempre quella cosa in più che succede se hai cervello ovviamente il conoscere grandi persone per esempio come fa lei persone importanti che diventano che diventano importanti come quando vai in concerti per esempio adesso scusa Bersi ti ho preso in considerazione in questa maniera comunque sì comunque sì io adesso leggo qua che mi dice Nekos quello che ho detto all'inizio che ci sarebbe stato ecco da parte di Venezia io l'ho detto all'inizio o no te l'ho detto anche in privato Venezia tutto qua tutto qua chiedo scusa a tutta la comunità purtroppo va così faccio comunico da una comunico da una chiesa troveremo un modo di sistemare questo problema un'altra storia se volete vi racconto un'altra storia interessante che mi dice il mio nonno era che quella volta che si è rotta l'ammortizzatore del rinculo del cannone quando spari ci sono delle molle lo spiegherò in scuola caristi ci sono delle molle che fanno sì quando spari il cannone faccio così bam e torni in avanti senza alzarsi prima che il proiettile esca dalla canna se queste molle sono rotte come parte il proiettile il cannone si alza mamma mia quindi cosa è successo quindi cosa è successo è successo che durante durante un destramento sulla costa lo spara un bersaglio in mare lo fa il cannoniere a posto lo fa il servente a posto lo fa il conducente a posto lo fa l'aiuto conducente a posto lo fa il mio nonno lo fa il mio nonno spara guarda nel mirino il proiettile non arriva più che strano altro proiettile spara di nuovo proiettile non atterra più caricano un terzo è un quarto è un quinto quando stanno per sparare il sesto arriva correndo l'operatore radio della compagnia che dice fermi fermi tutti fermi tutti stiamo sparando a una petroliera siccome la molla si è rotta l'hanno scoperto il cannone ogni volta che sparava in automatico andava in su rinculava verso l'alto rinculava verso l'alto cioè quindi i proiettili finivano chissà dove a fare in culo in quella direzione lì sì non vedevano non vedevano i target cioè non andavano a segnare i target salve Metal Mike buona Pasqua a te buona Pasqua a te c'è zio Mike c'è zio Mike insatto no non ci posso credere ciao Mike buona Pasqua ciao zio grande Mike devo decidere fare un'altra live con lui Mike Mike è sempre il numero il numero uno sempre sempre comunque nulla nulla a togliere gli altri ma Mike è sempre il numero uno e pensa che tutto ha cominciato da Mike per me almeno tutto ha cominciato da Mike perché io prima seguivo Mike e dopo vedo il suo video riguardante il Ferdinand il Ferdinand e mi compare in descrizione scusami in descrizione nella nella chat del video del video nella sezione commentiva del video mi compare la scritta guarda Metal Mike guarda Metal Mike c'è stato Vlad Sparastore che ha fatto un video sul Ferdinand io ero pronto a demolire qualsiasi video fosse uscito ed è uscito un video in cui diceva la verità sul Ferdinand cioè diceva che effettivamente è un mezzo schifoso comparato all'unità che l'ha utilizzato io da quel momento ho conosciuto Vlad e gli ho scritto in chat Vlad guarda il credo sì hai ragione è sottovalutato il Ferdinand ma credo che il caro più sottovalutato di tutti sia lo Sherman mi hai dato ragione abbiamo fatto un video insieme dopo che ne abbiamo fatti circa tre uno sullo Sherman uno sul Tiger uno sul Panther finalmente mi ha convinto a modificare il mio canale e incentrarlo sulla storia vabbè direi anche con ottimi risultati direi io invece mi ricordo anche quando hai cominciato hai cominciato te no te avevi cominciato due giorni fa avevi cominciato te con il video su la tizia che parla delle sospensioni a balessa velo Sherman sì quello è stato un video di aggancio al canale di Mike perché mi ero rotto le scatole di sta gente che parlava a Vanvera allora io sono uno dei primi che magari parla a Vanvera però perlomeno cerco di qua sembro Mike veramente lo giuro cerco delle fonti di documentarmi come penso che farebbe qualsiasi persona normale cioè che se so andare a sparare a caso solo per digitare delle parole sulla tastiera del computer solo perché uno dice la verità sui mezzi italiani cioè se eravamo arretrati che ci possiamo fare carta canta ragazzi così è seba il discorso qua è anche un discorso che volevo intraprendere uno di questi giorni è proprio il fatto che certa gente io sono colpevole di questa cosa qua quindi parlo per esperienza si fa tanto influenzare dal mezzo che gli piace di più o dal patriotismo in generale ecco io lo commetto con lo Sherman questo problema qua lo ritengo uno dei carri più importanti della storia credo che sia forse il meglio caro mai costruito che sia aggiornabile e ancora utilizzabile a suo modo sono d'accordo e non perché lo dici tu tuttavia tuttavia se qualcuno mi fa notare che sono imparziale sullo Sherman io gli ho ragione è vero lo sono lo riconosco lo riconosco mi dispiace anche però è sopra di me sta cosa qua ci lavorerò comunque ci lavorerò comunque circa vabbè ma aspetta non è che se ti fanno notare un difetto dello Sherman che comunque ne aveva come qualsiasi mezzo perché nessun mezzo è perfetto lo sono anche le auto quando escono al giorno d'oggi dalla catena di montaggio però non è che se uno ti dice magari ah e Peter lo Sherman aveva il discorso che non so famoso mito che si incendiava facilmente non è che ti vai inalberare dicendo no non è vero così e poi alla fine spieghi mi pare su un tuo video che il mito è nato perché a un meccanico di Sherman arrivavano Sherman tutti rotti è della serie grazie al cazzo il tuo lavoro esatto come molto spesso mi sento dire ah ah scusa le Alfa Romeo sono auto di merda grazie al cazzo da un meccanico dell'Alfa ti lavori all'Alfa e chiaro ti arriva tutte Alfa Rote e dici che l'Alfa è un'auto di merda invece non lo è assolutamente Alfa Romeo per sempre è come se io che lavoro per un'officina a Scania dicessi ma tutti gli Scania si rompono sempre gli Scania si rompono sempre quando non è così cioè lo stesso esatto vai a lavorare in un'officina di Lancia a Treero no mi licenzio ah perché è bellissimo il Treero è meraviglioso ah comunque una cosa che ho osservato del signor Fabio è che l'esperienza di scout aiuta tanto secondo me gli scout possono essere la maniera secondo te di sostituire la maia o di tamponare la famancanza sì sì ma ti dico anche anche seppure adesso la naia non esiste più e penso che mai verrà reintrodotta anche il software per dirti che io lo pratico il gioco di squadra il cameratismo anche il fatto di vivere un'esperienza c'è ad esempio io tra un mese virus coronavirus permettendo ho un torneo che dura 26 ore capisci che insomma devi arrangiarti da solo ecco una cosa come appunto lo scout e come poteva essere la maia e questo è il discorso anche un'esperienza del genere secondo me può servire sono d'accordo mi trovi d'accordo mi trovi d'accordo sì dopo ragazzi ripeto se dico qualche castroneria qualche bagianata fermatevi perché non voglio fare la figura da pollo qualche buea esatto però cerchiamo di parlare più l'italiano possibile perché dopo il nostro odioso accento veneto può dar fastidio a tipo Marta Sbrodiglio che magari no il fatto che la chiami ancora Smarta Sbrodiglio mi fa sempre spaccare scomparsa dalla faccia della terra polverizzata sta a vedere che ritorna nel mio video in cui parlo delle sospensioni dei cari in cui ho usato praticamente il il P40 per parlare delle sospensioni a balestra e dopo subito dopo lo Sherman per parlare delle sospensioni non penso dopo il mio video risposta si è risolta come una scoreggia al vento voglio vedere come signor ragusa del resto una cosa di cui parlava Parabellum in chat privata una volta è che c'è questo problema che se io prendo adesso e metto a fare un video del tutto contro un tot commento quella persona è ovvio che sparisce a meno che non c'ha un IQ talmente basso che è più basso della temperatura di camera mia oppure che ha ragione comunque vuole provarlo è ovvio che andrà a sparire però è anche una forma di accanimento vogliamo dire nella forma di questa persona qua io adesso raga io sono il primo perpetuatore del se fai una minchiata meriti di essere perculato però c'è una cosa che ho imparato sempre grazie a Parabellum che c'è una differenza tra l'accanirsi e lo spiegare ed è una cosa che ho fatto anche nell'ultima live per esempio tutto qua si d'accordo è vero allora chiedono allora io adesso comincerò già un po' le domande poi se ti viene in mente qualche altro argomento sei libero d'introdurro sei libero che ho creato nel mio video sull'accaristi ah consiste sta per explosive reactive armor corazza esplosiva reattiva o reattiva esplosiva a voi e fondamentalmente consiste nelle scatolette che sono circa delle dimensioni di questo libro qua e sono composte di uno strato di esplosivo e un pezzo di metallo angolato quindi quando arriva il mio missile che colpisce la corazza reattiva esplosiva detona la carica HRT del missile questo lo sto spiegando per poi sparlare dell'efficacia si forma il getto di rame che spiegherò nel prossimo video di scuola caristi che va per penetrare la corazza questa qua esplode assieme al poeta HRT e spara il penetrante di rame lontano dal mezzo nullificando nell'effetto ora è efficace o non è efficace dipende dal modello dipende dal modello Ale mi ricorda che c'è con il live come se non l'avessi detto 5 volte in tutta la live c'è il fondamentalmente l'efficacia della corazza aera dipende da quanto esplosivo ci metti dentro ci sono alcuni poetti HRT in ogni caso che hanno due cariche separate una carica fa esplodere il il blocco di corazza aera e la seconda carica esplode a distanza dopo qualche micro secondo e buca la corazza fregandosene dell'aera quindi è una cosa che dipende molto dal tipo di corazza tua che usi per risponderti dipende dalla corazza che usi comunque protezione in più non è mai peso supercato e questo lo spiego per dire che non solo ti può garantire la sopravvivenza dell'equipaggio in alcuni casi ma il tuo morale è molto più alto perché tu sai di avere protezione in più tutto qua penso poi ho imparato una cosa che non sapevo fa un po' te allora c'è no aspetta c'è LonghiSniper che mi chiede quanto ci ho messo a farmi crescere i capelli crescere i capelli io questi capelli non li taglio da dalla quarta superiore quindi da due anni fa allora 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 vediamo un po' vediamo mi sa che non li taglierai neanche più dato che i parrucchieri non apriranno mai più non apriranno mai più dettagli dettagli allora ma te non ti interessa a me interessa però allora le corazze deve poco modere ma secondo me sono inutili lui pensa che invece siano utili rintrodurle che ne pensi necco devi parlare di che corazza stai parlando delle era delle composite dell'appliche degli slat degli slat cosa stai parlando cosa stai parlando corazze delle navi oh sì oh sì il devo spiegare il motivo motivo allora devo spiegare il motivo per cui le navi moderne non sono corazzate allora i caccio troppo indinieri per tradizione anzi per necessità non sono particolarmente corazzati il motivo per cui non sono particolarmente corazzati è perché hanno bisogno di restare leggeri e veloci perché non so se avete presente come sono fatti sono stretti piccoli e pieni di armi devono mantenere una certa capacità di navigazione una navigabilità e quindi non puoi farle troppo pesanti se no ti affondano ogni onda e non va bene il motivo per cui i caccio troppinieri moderni non hanno questa gran corazza è perché prendono il concetto di protezione e lo spostano tutto quanto nel settore sistemi di difesa è come se voi prendete un APC un come si chiama adesso quello tedesco un boxer tedesco l'autoblinda tedesco boxer che è fondamentalmente parlano di corazza un caccio troppiniere ha solo sistemi di difesa attivi il caccio troppiniere e le navi moderne si basano sul vedere il nemico prima che lui vede a te e colpirlo prima che se lui a colpire a te se lui a colpire a te i tuoi sistemi di difesa che sono contro misure elettroniche flare chaff i closing weapon system i missili di difesa tutte queste cose qua dovrebbero poterti garantire un sistema di difesa contro la nave ora perché sui armati non si fa è piuttosto ovvio non c'è lo spazio per montare un CIWX da 20 mm Gatling ovviamente non c'è lo spazio per farlo però in chiaro si difende in un'altra maniera ovviamente quindi non ha senso non ha senso non perché non perché tanto sia uno spreco di materiali perché alla fine puoi garantire l'assuerenza per un paio di missili ma è perché i sistemi di difesa attivi finora si sono dimostrati più efficaci tutto qua c'è un discorso convenienza c'è un discorso convenienza e efficienza che va fatto qua che è il motivo per cui sono sparite le corazzate che non è perché oh mio dio i cacciatroponieri sono meglio dalle corazzate perché ci sono i missili e una corazzata è un bersaglio facile non è un cazzo vero perché a una corazzata ipoteticamente moderna io gli monto 5-6 Vulcan e tanti saluti il tuo singolo missile o il tuo barrage di missili il problema è che non conviene non è mai convenuto investire tante risorse su un'unica cosa piuttosto se io devo investire 10 miliardi di euro in una corazzata è molto più conveniente che ci faccio 5-6 cacciatroponi neri perché alla fine quando vado in battaglia con 5 cacciatroponi neri controllo molto meglio l'area attorno a me che con una sola nave con una sola corazzata poi divido il fuoco nemico se il nemico ne vede 5 spara tutti e 5 allo stesso modo se invece ho una sola corazzata tutto il fuoco è su di me per le corazzature delle navi è lo stesso discorso una corazzata si chiama così perché è corazzata perché ha corazza perché ha potenza di fuoco io posso avere nonché una corazzata senza corazza in quel caso si chiamerebbe incrociatore da battaglia ma sono dettagli ecco non conviene molto semplicemente non conviene perché in ogni caso se io perdo quella corazzata ho buttato nel cesso 10 miliardi di euro invece se mi affondano uno dei miei 5 cacciatroponi neri cosa ho buttato via? 2 milioni e mezzo di euro 2 miliardi e mezzo di dollari scusami Peter a proposito che hai nominato gli incrociatori leggeri che è quelli che erroneamente definivano le classi scusa le corazzate della classe Iowa che ne ho fatto un video sulla Missouri definiti erroneamente incrociatori leggeri quando erano proprio delle corazzate vere e proprie massima potenza di fuoco però con corazzatura più leggera e più veloce rispetto alle avversarie ti ricordo anche che le corazzate Iowa sono classificate come corazzate veloci perché hanno velocità superiore di 32 nodi infatti una Iowa tirata al massimo ne fa 35 di nodi non so se ne avevi parlato nel video non l'ho ancora visto mi dispiace gli americani gli americani avevano in progetto un successore dell'Iowa che era la classe Montana non so se la conosce e dopo c'era anche la classe Ohio che è una Montana qui che noi da 457 mm che sarebbero stati un'ignoranza pura un'assurdità pazzesca ma il discorso è che il Roosevelt stesso ha ordinato di cessare la produzione di corazzate quindi quelle corazzate che sono state costruite lanciate che sono state prese varate e impostate erano tutte quelle corazzate che bene o male erano già state progettate e preparate prima come le Iowa per esempio erano già in cantiere quando è stato dato l'ordine di produrre solo portaerei infatti anche il famoso mito sulla Missouri scritte scusa mi impappino ogni tanto abbiate pazienza la Missouri costruita e progettata per vendicare per Albor no balla colossale perché la Missouri era già in cantiere varata già un anno prima rispetto a Pearl Harbor all'attacco giapponese a Pearl Harbor quindi insomma anche là ce n'è di mitologia però ho voluto fare questo appunto perché di solito le classe Iowa specie da Missouri vengono dimenticate si parla sempre di Yamato di Bismarck di Tirpitz Prince Oigen tutte che poi era un incrociatore il Prince Oigen mi fa ridere una cosa mi fa ridere una cosa si parla tanto della Bismarck come il terrore dei mari eccetera eccetera ma cosa ha fatto alla fin fine la Bismarck ha fondato un incrociatore della battaglia della prima guerra mondiale non corazzato ed è stata affondata ed è stata praticamente affondata da un siluro al timone cos'altro ha fatto di importare quella data cioè non ha fatto un cazzo cioè è come cioè è praticamente io me ne lavo le mani combattete voi io non faccio un cazzo ha fatto così praticamente la Bismarck se vogliamo buttarla a sorridere sentivo nei video di Parabellum che diceva sai qual è una nave che si dimentica molto spesso una corazzata che tutti si dimenticano la Gneisenau la Gneisenau ha dato battaglia agli inglesi per giorni prima che riuscissero ad affondare quando è affondata gli inglesi sono andati a recuperare i marinai tedeschi per l'onore che è stato è stato proprio è stato proprio sì non è tanto l'utilizzo della nave cioè non è tanto la nave in sé che conta scusa è l'utilizzo che ne fai tutto qua è l'equipaggio che hai soprattutto l'equipaggio dell'Aiwa per esempio nel 43 era messo male paragonato a un equipaggio giapponese per dire questo perché la nave era stata appena commissionata c'è una differenza comunque tra l'impostazione di una nave il varo e l'entrata in servizio di quella nave perché l'impostazione è quando tu compri quando tu metti giù il primo pezzo d'acciaio della nave quando cominci a costruirla quella è l'impostazione dopo c'è il lancio della nave il varo della nave lo chiamo lancio in inglese launch che è quando lo scafo è completato la nave può galleggiare lo butti in acqua però la nave non è pronta al combattimento con solo lo scafo e le caldaie è pronta a muoversi ma non è pronta a fare altro quindi viene portata in un altro cantiere che non è una rampa che è fatta apposta per svuotarsi e accogliere navi in cui gli monti le torrette la sovrastruttura quello che rimane dei fumaioli i serbatoi e queste cose qua fondamentalmente questo fondamentalmente questo quello che vedi i cantieri fin cantieri quasi ogni giorno qua che ce li ho a tre chilometri da casa a Porto Marghera ecco adesso mi sono perso nei commenti c'è crea che se ne va c'è crea mi dicono che in un live passato ha detto che non mi convince il caccia J20 cinese come mai? beh perché tutto quello che esce dalla cina in genere è un copy paste di qualcosa che già esiste e non hanno provato un cazzo semplicemente non sono mai riusciti a provare assolutamente nulla di quello che hanno né in battaglia né in trianzi in se vogliamo proprio dirla l'esercito cinese punta tutto sui numeri ecco questo è quello che si sa non si ha un vero test della qualità dei mezzi e tieni conto che quando hanno volato sopra come si chiama sopra la vera cina che non è la repubblica di cina è Taiwan quando hanno volato sopra Taiwan loro li hanno visti arrivare da lontano solo che quando hanno preparato lo scramble cioè erano loro ad essere preparati tutto qua no comunque ha ragione Luca Furoni stavo parlando della Sharmhost non della Gneznao ha ragione lui era la Sharmhost quella che ha dato la battaglia forte allora vediamo 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 buonasera a tutti quelli che sono arrivati adesso Giuseppe chiede in palude è più prestante all'epro 2 a 6 o M1 a 2 a 7 v 3 beh in una palude dipende da quanto pesa il tuo caro ma in genere in una palude te non ci vai a prescindere il fatto sta che il Leopard 2 è a 6 se sei in solitaria sei anche in mezzi del genio io posso anche dirti l'M1 perché hanno un veicolo specializzato non so se l'avete mai visto ma hanno un veicolo specializzato per le palude è un M1 Abrams con la torretta rimossa che ha una specie di badile con delle lame molto affilate poste sul davanti lui cosa fa? lui semplicemente prende lo strato paludoso e lo spazza via lui carica attraverso una palude a tutta velocità e con la lama interrata come se fosse un arato crea un varco per i cari armati poi con uno strumento posteriore lancia dei paletti delineamento elettronico e il secondo Abrams che passa dietro di lui che è un altro Abrams modificato mette giù un telone d'acciaio che è fatto apposta perché i cari armati ci possano camminare sopra è un po' come il Churchill con il grande rotolone di carta igienica davanti che non è carta igienica però è un Churchill della seconda guerra mondiale fatto apposta per i teleni paludosi ha questo rotolone davanti enorme che è un tappeto per cari armati è fatto apposta per affrontare le paludi lo distendi nei terreni morbidi e rende una strada utilizzabile per quella compagnia di cari che deve passare poi la devi mettere un'altra perché affonda però questa è l'idea cosa che i tedeschi non avevano ad esempio non hanno mai avuto quello che so io esatto infatti ogni tanto qualche carro in palude lo ritrovi tuttora il tedesco che infatti il discorso che hai detto tu è in palude non ci vai la eviti se puoi qualcosa alle paludi del Pripyat ad esempio non so mi pare che sia Manstein che sia impantanato nel 41 sulle paludi del Pripyat mi trovi completamente sbaragliato quando lo so il bello è che un mese fa ho letto il libro di Robert Citino Robert Michael Citino che è 1942 l'arresto della Wehrmacht dove fa un'analisi di tutte le campagne da diciamo dall'invasione della Polonia fino praticamente a Stalingrado e adesso non mi ricordo su che capitolo era però mi pare sull'assedio di Leningrado o comunque Manstein si impantana sulle paludi del Pripyat però sto andando a memoria guardate non voglio dire una cazzata quindi scusatemi in anticipo se ho fatto qualche errore se qualcuno me lo sa dire mi fa una cortesia grazie io adesso stavo ricominciando a leggere i commenti qua Vlad ha detto in una live che l'F-35 è stato un po' un fallimento sei d'accordo? no non sono d'accordo con il fallimento dell'F-35 allora un F-35 anzi un qualsiasi aereo che viene creato è un qualcosa che va aggiornato nel tempo ok soprattutto su un aereo gli aerei più moderni che sono i più avanzati che ci siano grazie al cazzo ma gli aerei più moderni hanno bisogno di di lunghi periodi di prova l'F-35 non è da meno è un aereo che a pensarci non è poi così nuovo però è rimasto tanto nella sede di collaudo quando nel 2014 credo abbiamo cominciato ad avere i primi F-35 li avevamo in sede di collaudo cioè noi dovevamo collaudare e vedere se c'erano problemi infatti quello che facciamo noi è provarli scoprirmo che il motore prendeva fuoco si è messo sotto stress in alcune condizioni cosa abbiamo fatto l'abbiamo riportato a Lockheed Martin che l'ha sistemato ricordo che l'F-35 è un progetto internazionale e non nazionale statunitense come l'F-22 è una cosa internazionale quindi tutti i coni ci hanno un po' messo le mani e al giorno d'oggi l'aereo dopo tanto sviluppo cosa viene fuori un mezzo più che valido se vogliamo possiamo dire che è un ruolo di close air supporto vero e proprio con lui non sarebbe proprio possibile ma tuttavia la precisione delle sue armi possono compensare il riguardo dare un supporto a distanza magari ecco i piloti anche leggo che non sono stati entusiasti o io tutti con cui ho parlato sono rimasti molto soddisfatti ecco il problema dell'F-35 è che è come l'M247 Sergeant York ha una cattiva reputazione e probabilmente non se ne andrà mai bisogna stare attenti quando si parla di queste cose qua perché si finisce con effetto M247 Sergeant York in cui il tuo veicolo viene cancellato solamente perché non piace al pubblico tutto qua leggiamo leggiamo c'è Pete che dice l'Abrams non passa sulla palude l'Abrams la sposta alla palude mi immagino Mad Dog Mattis che fa tipo Mosè con le acque e apre la palude perché ci passano i cari amati ah Gesù signor Mattis ah ci mancherai leggo ancora da Matteo che dice Peter ma è vero che le batterie principali delle corazzate giapponesi anche della Yamato erano imprecise minchies erano imprecise il problema delle navi giapponesi delle corazzate giapponesi in generale è che i cannoni non erano proprio il massimo che tu potessi richiedere non erano capiamoci non facevano schifo erano buone entro una certa portata però quello che speravano di fare i giapponesi con quei cannoni non erano neanche lontanamente abbastanza per quello che sarebbero aspettati poi anche durante la battaglia del come si chiama dello stretto del Surubayo in cui delle corazzate di Pearl Harbor ressuscitate hanno preso a calci il top della flotta giapponese cos'era la classe Sud Dakota può essere no c'era la South Dakota la classe North Carolina e dopo tutta una serie di corazzate di quelle di Pearl Harbor la Pennsylvania la Oklahoma la Colorado la West Virginia che poi comunque le batterie delle corazzate giapponesi erano magari imprecise ma sempre magari meglio delle nostre classe Littorio ad esempio che avevano le cariche di lancio totalmente differenti esattamente e quello è il problema quando hanno fatto le prove con le cariche di lancio giuste i cannoni erano i più precisi i cannoni da 380 mai fatti dove erano rimasti i commenti Panzer IV nel lago Panzer IV nel lago credo che ci sia finito perché pensavano fosse attraversabile il lago no ma comunque si trovano anche carri russi impaltanati tranquilli non trovi parecchio hanno trovato scusa Peter hanno trovato qui nel dopoguerra nel 47 mi pare vicino a San Giuliano prima del ponte della libertà per andare a Venezia uno Sherman impantanato era finito in laguna diretto in canale proprio quindi insomma non vuol dire che siano solo i tedeschi che si impantanavano c'è Giovanni che passa per salutare ma non può rimanere ciao Giovanni il principale della F-35 inizio era il casco che dava molti problemi sì infatti tutte le cose col tempo si perfezionano se dai abbastanza fondi e se dai tempo alle persone di sistemarle io credo che se avessero fatto come tanta gente voleva fare cioè cancellare il progetto la F-35 adesso sarebbe stato solamente uno spreco di soldi e adesso non ce l'avremmo nelle porta aerei per esempio sì l'F-35 è proprio il discorso dell'elmetto che lo rende particolarmente interessante perché tu puoi vedere attraverso l'aereo quell'elmetto hai un come si chiama l'HUD praticamente fisso il tuo elmetto tu dove guardi se io guardo di qua vedo quello che dovrai vedere se stessi guardare in avanti in più se ho un nemico sotto di me io guardo giù attraverso l'aereo vedo il quadratino del nemico ecco fondamentalmente questo e c'è il blizzino credo che mi ha fatto la volontà giusta perché i caristi tedeschi non usavano gli elmetti a questo non lo so sai che mi sembra che sia proprio perché i tedeschi non hanno mai riconosciuto una vera necessità a riguardo perché inizialmente diceva Hilary Doyle che inizialmente l'idea per i caristi tedeschi era di avere una specie di berretto come quello simile a quello che c'è venese a 90 adesso però rinforzato in gomma nel senso che se io prendo una botta mi ammortizza meglio poi non l'hanno più fatto usavano i berretti normali e le cuffie non so perché non hanno mai usato gli elmetti tutto qua tutto qua forse per una questione che gli elmetti tedeschi non era cioè proteggevano bene lo Steinelme ma non era proprio comodo eh ho capito ma anche gli americani avevano i caschetti fatti apposta per i caristi capisci? sì ma forse forse probabilmente non c'è mai stato un interesse da parte degli stati maggiori di fare un elmetto adatto per i caristi già purtroppo forse proprio non hanno mai trovato una necessità forse non avevano un'acciaio in abbondanza l'hanno sprecato tutto per lo dovevano sprecare tutto per il ratte per i P.000 ratte esattamente si ho un ratte aspetta oddio aspetta che adesso salta fuori Giuliano Rossi dei miei testicoli che mi minaccia di morte io ho ucciso sette persone sono delle forze speciali sì sì mi so Gary Cooper chiedo non si potrebbe fare le corazzate con un ratore nucleare così possono andare alla stessa velocità delle altre navi il problema non è neanche quello perché alla fine le corazzate Iowa in linea dritta non erano tanto più lente di un incrociatore o di una porta aerei o tanto meno di un cacciatore paviniere il discorso è quello che è il problema sempre dell'alimentazione delle corazzate che richiede comunque tanto carburante e il combustibile nucleare va degradandosi per avere un per avere un carico di energia perfetto bisognerebbe aggiornarlo una volta ogni 20 anni ok per i sottomarini quindi figurati una corazzata ehm Alex che dice vicino a casa mia hanno trovato due ordini della seconda guerra mondiale su un ponte che attraverso quotidianamente sai la cosa divertente che se io adesso mi metto a scavare in giardino con un metal detector come pianifico di fare con Craig Henry in un futuro remoto o presente dipende dai casi potremmo trovare tranquillamente delle bombe della seconda guerra mondiale droppate da quei coglioni degli australiani droppate si fanculo sganciate da quei coglioni degli australiani perché hanno bombardato Castelfranco Veneto mia nonna da piccola si ricorda le bombe che atteravano in strada cosa devo cosa devo dire e mio nonno aveva un cannone antiaereo sul tetto della casa che avevano messo lì tedesco tutto qua e beh adesso si usa ora della parabola 70 anni fa si usava il cannone antiaereo di cosa ti scandalizzi l'unica cosa che erano utili quei 20 mm contro bombardieri 8000 metri allora andiamo avanti pittano la portaria di Taiho era un progetto valido troppo pieno di difetti la Taiho se non sbaglio era la prima portaria corazzata giapponese allora c'è una differenza una lezioncina sulle portaria c'è una differenza tra la portaria corazzata e la portaria non corazzata e fondamentalmente la quantità di corazza che la portaria c'ha sui fianchi e sopra anzi principalmente sopra perché i fianchi non ti interessa tanto vuoi essere portato dalle bombe e il motivo per cui tu dovessi fare una nave una portaria corazzata è se vuoi portarla dalle bombe ok fondamentalmente questo bombe perforanti ecco le portarie giapponesi come quelle americane erano portarie leggere ergo il tuo ponte di volo non è corazzato è una lamina d'acciaio ricoperto di legno basta fondamentalmente questo poi da legno si passerà al mesh di acciaio però fondamentalmente erano fatte di acciaio e molto fino anche la tai ho invece è un tipo di portaria pesante più una portaria all'inglese ovvero corazzata c'è un problema però nel discorso di portaria corazzate in base alle stime dei danni subiti a una nave il numero di morti era molto superiore nelle portaria corazzate che nelle portaria leggere questo perché una portaria corazzata è molto più stretta molto più compatta hai poco spazio dentro gli hangar ha l'altro difetto le portaria corazzate che non puoi avere tanti aere al tuo interno rispetto a una portaria leggera quindi quando sono state colpite le portaria inglesi a parità di danni hanno subito molti più morti che gli americani perché la bomba aveva più possibilità di bypassare direttamente il ponte di volo ed esplodere nelle camere ed esplodere nei serbatoi anziché andare a colpire la sala macchina deposito munizioni deposito delle bombe o l'hangar degli aerei che è dove c'era la maggior parte dell'equipaggio della nave ecco fondamentalmente questa è la differenza la Tai Ho invece è stato un tentativo di variare dalla loro abitudine di far portare leggera ha funzionato? no perché alla fine l'ha ancora atta picco ma poteva funzionare? sì volendosi tutto qua chi non sa alla fine l'F-35 era buono o meno io dico che alla fine è buono è un aereo che si chiama un aereo da multiruolo il giorno d'oggi multiruolo significa che puoi fare sia il caccia sia l'attacco a terra l'F-35 è stato sviluppato con la logica americana ovvero hai due aerei che combattono principalmente in prima linea che sono l'F-22 come caccia alla superiorità aerea il cui unico scopo è guadagnare la superiorità aerea il suo unico scopo è tirare giù altri aerei e guadagnarsi il domino dei cieli l'F-35 sebbene può fare anche quello il suo scopo principale è quello di andare a bombardare i coglioni con le antiaere per esempio con i SAM con i radar questo è il perché l'hanno fatto stealth e costruito in quella maniera ecco ma anche i caristi inglesi non li usavano gli elmetti giusto? eh sì gli inglesi avevano proprio un berretto come il tuo benessere più le cuffie quelle tipo le mie gli inglesi avevano i britannici più correttamente avevano il basco il baschetto canadese di questo tipo infatti ne parlavo sto pomeriggio con il mio iscritto su Discord che il motivo per cui gli americani ebbero così pochi morti uno dei motivi è perché avevano i caschetti se tu prendi a parità di Sherman distrutti tra inglesi e americani gli americani avevano più sopravvissuti pochi di più sopravvissuti ma perché il caschetto li salvava da ferite la testa beh è chiaro è come caduta dalla bicicletta o dalla moto stessa cosa se c'è il casco magari una botta un trauma però ti salvi se invece non ce l'hai ciao ciao esatto magari c'è queste piccole differenze fanno cioè queste piccole cose fanno le differenze è lo stesso discorso che faccio io a riguardo all'esercito è meglio averlo e non averne bisogno che non averne bisogno magari io sono sono parte della sesta divisione corazzata americana che per tutta la guerra non l'ho mai visto un singolo carramato il cazzo mi serve l'elmetto se no mi sparano contro esatto però se fossi stata la seconda la terza unità della seconda divisione corazzata che di carramati ne ho incontrati pochi l'elmetto è sempre meglio avercelo il caschetto è sempre meglio avercelo allora andiamo avanti con i commenti c'è pitt che dice che ha passato l'elementario su una bomba da 600 libre bravo pitt complimenti mio nonno aveva quattro sciama davanti casa dice nicolò dicono il reattore nucleare delle portere serve solo per rendere più velocità la nave no è una fonte limitata di energia potenzialmente una fonte limitata di energia ti garantisce di stare in mare tanto non è un discorso di velocità e potenza è un discorso di quanto tempo stai in mare ok una porta aerei può fare il giro del mondo diverse volte prima di dover rientrare per rifornire il reattore nucleare la limitazione di una porta aerei è per dirne un paio il carburante e l'immunizione degli aerei l'acqua dolce se la distillano loro l'elettricità i reattori nucleari fanno tutto è un discorso di autonomia c'è Boggi che chiede cos'è l'Australia e cosa sono gli australiani lo sai te cosa sono benessia lo sai chi sono gli australiani gli australiani sì crocodile dandy in effetti sì sono l'accordo sì sono l'accordo allora c'è edo che dice il padre di mia nonna è stato quasi ucciso degli americani perché cercavano cercavano delle donne questa storia la voglio sentire come mai stava cercando stava cercando delle donne questione di carbonate è quello che stavo dicendo io stavo portando il video della USS Johnson il video della USS Johnson aspetta qual è la USS Johnson è quella che ha preso fuoco recentemente perché un po' di tempo fa ha preso fuoco una portiera americana sai sì ma per difetto di combustione o perché si era schiantato un velivolo sul ponte ha fatto un errore un elettricista l'Australia non esiste la terra è piatta sono d'accordo ecco appunto tutti quanti vedi che la memoria non ci inganna mai l'Australia non esiste hai capito come diciamo i terrapiattisti ti ricordi poi dopo è uscito il video che aveva fatto come si chiamava adesso Dio Barbascura riguardante quel convegno dei terrapiattisti italiani l'Australia non esiste la terra è piatta ci sono come si chiama c'è un esercito della coalizione delle nazioni che impedisce la gente di attraversare il ciclo polare artico che in realtà gira tutto intorno al mondo intorno al mondo e la luna è fatta di formaggio la luna non esiste è in 2D la luna perché mostra sempre la stessa faccia perché se era fatta di formaggio a sta ora me la vogliamo anche mangiare un topetto stravecchio di asiago di asiago no preferisco l'imbriagon come il sottoscritto l'imbriagon io credo se potessi fare io se c'è una cosa che vorrei fare sarebbe anziché fare una live in questa maniera qua ritrovare tutti quelli tutti quelli che mi seguono su youtube ad asiago tipo in non so nella campagna di asiago a mangiare formaggi e a parlare di storia sarei una bella cosa al kubelec rifugio kubelec c'hai tutto l'altopiano davanti se è bello perché se se le nuvole sono basse il tempo è brutto non vedi niente e dopo tutti all'ortigara a vedere in fronte c'è oddio dopo aver mangiato al kubelec all'ortigara ci può arrivare solo in elicottero abbia lanciato e basta perché a piedi non ce la fai sì 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 no sembra una bella cosa l'ortigara è un deserto di pietra cioè adesso io invito chi non c'è andato andateci perché veramente ti rendi conto di quello che che hanno passato gli alpini il calvario degli alpini proprio c'è penso frase più azzeccata proprio un calvario sì sì ho presente dove sì ci sono ci sono un sacco di storie interessanti che lì che prese anche singolarmente io per esempio ho la storia del mio bisnonno che nella prima guerra mondiale ha perso un occhio era non era ancora ardito però nella compagnia che diventerà arditi lui fondamentalmente è combattuto sul grappa per tutta la guerra scusa combattuto sul grappa scusa sull'ortigara ecco lui durante un attacco di quelli fatti alla cazzo di cane da Cadorna ha perso un occhio tutto qua e gli è andata bene in confronto a tanti altri è andata molto bene semplicemente gli è arrivata una schezza di granata qua sulla tempia che gli ha cercato un occhio il discorso dell'ortigara il problema qual è stato che praticamente con la tipica dottrina che si aveva nella grande guerra specie per un fronte di montagna bisogna conquistare la cima per avere il possesso il dominio il discorso qual è che con l'ortigara non era la cima più alta perché poi c'è cima 12 loro quando sono arrivati sopra si sono trovati quest'altra montagna più alta ancora con le batterie austro-ungariche che hanno fatto il tiro al piccione praticamente e da lì è stato il massacro poi via assalti frontali contro mitragliatrici bombarde cannoni grossi piccoli medi calibri perché sull'ortigara ci hanno sparato di tutto anche gas avevano anche un cannone navale gli austriaci lì c'è ancora il bunker una sede profonda scavata nella roccia in cui avevano messo un cannone da 250 mm di una corazzata erano delle mi pare delle corazzate classe Tegentoff che poi non sono mai entrati in produzione credo mi pare se non ricordo male infatti Lungogiorgio era un cannone teoricamente doveva essere un cannone navale per essere installato nelle nuove corazzate invece è finito a calce rannica al lago in Val Sugane da lì ha bersagliato Asiago 30 km di distanza con i suoi 300 pensa che Gallio non esisteva più quando è finita la guerra a Gallio non è rimasto niente solo rovine a Gallio l'hanno rase al suolo e compresa anche Stoccaredo già sparita nella frazione Sasso di Stoccaredo di Asiago c'era il corrispondente Attilio Frescura colui che ha scritto il diario di un imboscato che l'ho recensito nel canale però non ha avuto molto successo quel video che non è un libro molto conosciuto c'è una frase tipica che gli fa un suo un suo attendente gli dice questi sono i nostri nel senso di colpi in partenza verso le linee sono i nostri nel senso che gli altri gli austriaci hanno sparato sì sono i nostri che arrivano a noi arrivano addosso a noi l'ironia no era l'ironia di dire come mi posso spiegare aspettami nel senso gli chiede sono i nostri che sparano no sono i nostri nel senso sono i nostri le nostre granate per noi arrivano granate addosso a noi sì sì ho capito c'è un commento che mi sta facendo venire in mente una vecchia storia di fine guerra Valerio che dice comunque mio nonno mi ha raccontato che un giorno era stato attaccato da un aereo inglese e si era riparato dietro a un grande masso poi al ritorno dell'aereo ha fatto il giro del masso e si è riparato mi viene in mente la storia del Pippo l'hai mai sentita te? la storia del Pippo è quell'aereo che di giorno fa il panettiere di notte fa il bombardiere così la dicevano ai bambini piccoli fondamentalmente era un Mesh Smith 410 tedesco che andava in giro di notte e bombardava qualsiasi cosa avesse una luce accesa se vedeva una luce ci sganciava una bomba o il prevedeva a cannonade o il prevedeva a cannonade ah mai sentito? mai sentito mi è nuovo cioè no non mi è nuovo il fatto del Pippo ma credevo fosse un aereo americano no no gli americani non usavano sta tattica qua gli americani non avevano impiegato aerei in questo ruolo notturno se usavano aerei in ruolo notturno era per la caccia notturno tutto qua ok il Pippo comunque si era una Mesh 410 perché cercava di mitragliare le zone in possesso degli americani o presunte americani o alleate in generale alleate quindi questa era qua ci sono molte storie di auto che andavano in giro con i fanali spenti c'erano persone che accendevano una candela per tagliare la carne e venivano bombardati all'istante come lo sentivi arrivare tu dovevi spegnere tutto anzi era meglio se stavi con le luce spenti tutto il tempo dicono che volava sopra Vicenza un Mesh 410 ha dei serbatoi da spaventare vola tantissimo un Mesh 410 e poi non ce n'era uno ce n'erano tanti erano proprio caccia notturno in stile tedesco basso rapido prendi tutto quello che riesci a mettere le mani c'è Boggi morto di figa intanto che continua scusa Boggi ma te lo devo che continua a dire le australiane esistono change my mind ok quindi l'Australia non esiste ma le australiane esistono raga io a Boggi li voglio bene lo stavo anche un po' troppo massacrando forse allora torniamo a noi grande soldato che dice a voi del Pini cosa ne pensa del fatto che si dice che il reggio esercito ha avuto scarse prestazioni nella prima guerra mondiale benessero lasciata allora scarse prestazioni nella prima guerra mondiale vorrei sapere da dove è arrivata sta fonte scusa lo dice lo dice grande soldato grande soldato sì ma chi è che ha detto sta roba chi è che lo dice scusami da dove l'ha sentita sta roba sì allora prima di avere la fonte di cosa ne pensi in base a quello che hai letto in base a quello che hai letto allora che il che il reggio esercito avesse avuto una scarsa prestazione nella prima guerra mondiale allora sì e no sì e no perché allora il discorso qual è molto spesso si va allora noi sappiamo che durante la prima guerra mondiale abbiamo avuto due comandanti principali dello stato maggiore che è Luigi Cadorna che ha sostituito Pollio perché Pollio ha avuto un infarto e poi dopo Caporetto Armando Diaz da lì poi c'è stato tutto un cambiamento lo sappiamo il discorso però è che molto spesso si va a dire come l'esercito italiano avesse scarse prestazioni quando quando anche gli altri eserciti comunque non è che brillavano in prestazioni durante la grande guerra andiamoci a vedere il fronte occidentale che praticamente da la Stasi dopo la Marna nel 14 fino a praticamente al 18 è stata solo una guerra di posizione e basta si andavano a rompere le corna uno contro l'altro contro assalti di fanteria alla baionetta contro mitragliatrici che sparavano quindi alla fine noi non eravamo tanto peggio degli altri eserciti il discorso qual era che noi ad esempio potevamo contare in una massa di uomini materiali che gli austro-ungarici ad esempio non avevano soprattutto dopo l'arrivo degli alleati gli inglesi dei francesi degli americani ecco ma il discorso qual è che allora il nostro fronte principale era il fronte Giulio Lisonzo la strategia e la tattica di Cadorna non era del tutto errata qual era massimo sforzo su tutto il fronte per poter sfondare con artiglierie e uomini il problema qual è stato che a Caporetto e ne abbiamo avuto l'esempio due mesi prima a Flondar che è una piccola località vicino al Monte Armada nel Carso Triestino con le nuove tattiche di infiltrazione gli austriaci si hanno dato una batosta che praticamente è stato il presagio di Caporetto con Caporetto cosa hanno fatto chiedendo aiuto ai tedeschi che hanno costituito la quattordicesima armata per il fronte italiano hanno individuato il punto debole del fronte che era appunto la conca tra Plezzo e Tolmino e da lì di conseguenza è successo Caporetto che un po' tutti sappiamo com'è com'è andata però secondo me come prestazione l'esercito italiano non era molto diverso dagli altri e non ha avuto scarse prestazioni secondo me secondo me ha fatto anche troppo ha fatto si è comportato scusate voglio concludere l'argomento Pippo per dire che ci sono sia argomentazioni a riguardo che fosse un Mosquito o un Bo Fighter ma ci sono le argomentazioni che sento io da parte della gente che l'ha vissuto che secondo loro era un aero tedesco e in base ai registri di quello che succedeva all'area all'epoca gli anglo-americani avevano grandi problemi con l'aero tedesco che volavano basse gli colpivano i rifornimenti era sempre il 43 la Luftwaffe aveva ancora un po' di rilevanza comunque tornando al discorso Caporetto c'è un commento da parte di Nicolò che dice ci sarebbe stato un modo per tamponare Caporetto si dice dice la la cosiddetta difesa cioè fare più lì allora le linee di resistenza dietro c'erano il problema Caporetto comunque ha coinvolto gran parte la seconda armata perché noi molto spesso a Caporetto siamo abituati a vederlo come disastro generale invece ha coinvolto solo la seconda armata del generale Capello perché era tutta rivolta avanti non aveva non aveva un compito difensivo ho capito si poteva si si poteva evitare il problema erano le menti che avevamo al comando una cosa una domanda che viene da fare a me perché io non so abbastanza la persona mondiale ma ti chiedo ma ti chiedo è giusto secondo te dare tutta la colpa a Cadorna per quello che è successo a Caporetto a Caporetto no e non perché io sia non vorrei passare per Cadorniano Cadorna non aveva tutta la colpa era il suo modo era il suo modo di fare la guerra appunto ai fine come allora se si va tanto a condannare Cadorna perché non si condanna anche generali francesi inglesi Falkenheim a Verdun perché non si condanna pure lui solo perché è tedesco che aveva una tradizione militare pussiana adesso sto leggendo un altro commento da parte di Gabriele Fucsa che dice inutile sovrastimare l'appoggio degli alleati sul fronte italiano nella perla guerra mondiale beh più che sovrastimare è proprio oggettivo che ci hanno dato un grande aiuto sono anche i monumenti a loro dedicati sì perché ti faccio un esempio nel libro tappe della disfatta di Fritz Weber tenente dell'artiglieria Weber dopo che lui fa una una descrizione dettagliatissima di Caporetto forse la migliore che finora abbia mai letto da parte austriaca e praticamente spiega di un episodio che incontra un generale italiano che viene catturato no assieme al suo attendente ha tutto i suoi bagagli personali no lui per quel poco che capiva di italiano gli è sempre rimasto impresso questa storia questa frase dicendo ah ma voi potete arrivare anche a Milano ma l'America è grande ti fa pensare questa frase? abbastanza eh infatti se guardi bene la seconda guerra mondiale che è stata una guerra a gran parte di materiali dove eserciti industrializzati di massa hanno vinto su un piccolo esercito mobile come la Wehrmacht che appunto fondamentalmente era una tradizione militare di più di 300 anni contro cosa? un nuovo modo di fare la guerra i materiali produzione di massa ho capito comunque una domanda a parte perché poi voglio rimanere un po' sull'argomento prima guerra mondiale chiedono degli americani e l'incrociatore nucleare sì è lo USS Long Beach tutto qua dopo leggo che Barbellum dice che sì si poteva evitare perché lo sapevamo benissimo che stava arrivando all'attacco io riguardo sono d'accordo sono d'accordo perché ad esempio agganciandomi a quello che ha scritto Parbellum l'ho citato prima Flondar il presagio 1917 la chiamano la piccola Caporetto c'è scritto anche nel libro c'è dedicato un capitolo nel libro di Mario Silvestri del libro Caporetto una domanda che mi fanno è riguardante la flak jacket americana si poteva proteggere i caristi dalle schese durante la seconda guerra mondiale la risposta è sì ma se la maggior parte delle tue ferite sono alla testa la cosa su cui vuoi incentivare di più la protezione è la testa non che il corpo fosse inutile capiamoci bene ma la maggior parte delle ferite letali erano alla testa e la flak jacket serviva di più ai piloti che ai caristi ecco bisogna anche decidere su cosa vuoi puntare alla tua produzione ecco intanto c'è Gabriele Fux che dice a Caporetto eravamo troppo all'offensiva le piazzole dell'artiglieria erano esposte il problema non era solo Cadorna il problema era come e perché eravamo entrati in guerra una monarchia corrotta aggiunge sulla sovrastima del contributo alleato rimanda Cimmino cosa mi dici te ma oddio qua è una parte che non saprei tanto rispondere perché la sto studiando ora il contributo alleato diciamo in fatto economico sì ma però ha spiegato una volta c'è una cazzeroba ma in sto momento ho un vuoto in memoria non mi ricordo ok non importa tipo di debito pubblico una roba però non voglio finire in stronzate perché se poi mi offendete alla fine avete anche ragione quindi chiudo l'argomento e non voglio dire castroneria quindi insomma mi studio l'argomento poi in un'altra occasione se ne parlerà Alessandro Barbera ha fatto un bel video su Caporetto io non l'ho visto voglio procurarmelo perché prima guerra mondiale sebbene ho avuto tanto mio nonno che ha appunto ha avuto suo suo padre che è stato appunto ferito mio nonno ci teneva tanto che io ne sapessi di prima guerra mondiale solo che oddio è morto prima che a me venisse l'interesse per queste cose qua con il pazzo all'anima sua Capite che propone un'idea geniale risuscitiamo risuscitiamo Patton e facciamolo e prendiamo uno a caso di tutte le altre nazioni e facciamo una scazzottata tra Patton e lui ci starebbe e ritorno a Parabellum finalmente è un piacere vederti anche in questa live era una settimana che austriani austriaci si arrendevano e raccontavano che c'erano i tedeschi ma lo scrivono anche i generali italiani che sappiano della presenza tedesca e dica austriani perché è noto il caso di italiani dell'Istria nell'esercito austriaco che raccontano tutto ok se hai ragione ok austriani ho capito è interessante questo piccolo dettaglio qua io per esempio prima ero rimasto al fatto che Caporetto è stata persa perché Cadorna era sempre impuntato sull'offensiva ecco e quindi nella mia mente è sempre stata tutta colpa di Cadorna adesso i dubbi mi erano venuti da un po' e volevo saperne di più ecco devo studiarmela anch'io sta parte qua interessante solo che io devo prima finire quel dannato video prossimo che devo far uscire e dopo devo finire scuola caristi finito scuola caristi allora cominciò a concentrarmi anche un po' su tutto il resto intanto finiamo queste cose qua ok una domanda abbastanza stupida ma aspetta non ci sono domande stupide se hai se hai curiosità su argomenti tranquillo Valerio una domanda abbastanza stupida una domanda ma in una realtà distopica se la Russia ora volesse invadere l'Europa gli agenti europei sarebbero in grado di difendere l'Europa senza aiuto degli USA io a questo non ti so rispondere la mia risposta da based che non sono altro secondo me nel corto termine vince la Russia nel lungo termine vinciamo noi dalla Nato sul lungo termine tutto qua niente di più niente di meno la Russia non è in condizione economica per fare una roba del genere andiamo avanti hanno costruito i P14 per gli inglesi e costruito Mosin Nagan per i russi di chi parli Luca Furone scusami ah le sovastime e il contributo alleato in particolare americane gli americani hanno fornito fucili inglesi e russe ho capito sai un'altra cosa che fornirono gli americani a noi locomotive a vapore sia nel 1914 sia nel 1915 sia nel 1945 gli americani hanno mandato un totale di mi sembra siano 100 e qualcosa locomotive fatemi controllare rapidamente vi dico la mia prima passione erano stati i treni a vapore e quindi su questo argomento qua ho tutto un libro riguardo allora vi leggo questa locomotiva la GR735FS è fatta made in USA in Stati Uniti e Canada da parte della Alco e della Montreal locomotive works allora fondamentalmente quando scoppiò la prima guerra mondiale nessuno si immaginava che il conflitto avrebbe divorato così tante risorse malgrado dal 1905 al 1915 la FS avesse raddoppiato il parco locomotive si va da 2600 a 5000 il numero non era più sufficiente tutte le industrie europee erano impegnate nella produzione delle armi e munizioni solo gli Stati Uniti ancora neutrali erano in grado di soddisfare grosse richieste in tempi ragionevoli una commessa di 400 locomotive fu quindi affidata al 1916 dalla FS all'American Locomotive Company e alla Montreal Locomotive Works ne fecero 393 tuttavia il dove aspettate tuttavia ci fu un incidente in cui alcune di queste locomotive qua vennero affondate da un U-Bot mentre stavano attraversando l'oceano atlantico fatto sta che quando si parla di contributo americano all'Italia se si dice se si decide di sottovalutarlo teniamo in conto che questi qua hanno fatto per noi 393 locomotive in due versioni diverse non è roba da poco fare una locomotive intera e mandarla qua come quando si parla del contributo che hanno avuto per quanto riguarda le armi i pezzi per gli aerei perché loro non costruivano aerei li facevano costruire ai francesi e davano i pezzi ai francesi i nostri caccia erano principalmente SPAD SPAD fatti in Francia e attenzione perché sebbene un piccolo dettaglio sebbene l'aviazione francese l'ha presa nel culo come se non ci fosse stato niente durante la seconda guerra mondiale nella prima guerra mondiale i francesi erano i più grandi produttori di aerei al mondo battevano tutti nella produzione di esse tra i Nimrod gli SPAD anche i Soffit facevano tutto i Soffit li facevano su licenza per l'inglese avevano semplicemente le fabbriche migliori e dopo li mandavano in giro tutto qua anche gli americani erano interamente basati sugli SPAD tutto qua tornando al commento allora c'è Parbellum che dice due parole su Marco Cimmino per la prima guerra mondiale Marco Cimmino è uno storico che si occupa solo di quello che è pieno di video sulla prima guerra mondiale anche se il video di Barbellum sul caporetto è pregevole è anche divertente ok Parbellum ti faccio una domanda già che sei qua cosa tendi con questo commento di Marco Cimmino è uno storico che si occupa solo di quello che è di quello aspetta che si occupa solo di prima guerra mondiale solo di caporetto sono curioso intanto andiamo avanti prima guerra mondiale Baracca contro Barone Rosso vuoi fare il patrilotto o il realista? allora non sono un grande esperto di aviazione né di piloti però secondo me sono tutti e due propagandati dice? si poi vabbè se devo mettere davanti metto Baracca per patriottismo neanche tanto il patriottismo per il discorso perché il cavallino rampante della Ferrari Baracca usava dipingere un cavallino rampante nella carringa di soia aerei era uno standard di famiglia di cui non se ne sa l'origine almeno fino adesso di quello che so io o no la famiglia lo donò a Enzo Ferrari che poi lo mise nelle auto ho capito nelle sue auto quindi per questo agganciato a questo discorso preferisco Baracca sempre sulla leggenda poi insomma Peter io vorrei poterti parlare di più dei due piloti ma io so più di più sui loro aerei che su quei piloti mi dispiace allora mi sono perso un po' di domande Matteo dice Peter ma gli incrociatori da battaglia slash corazzate veloci giapponesi classe lo classe Congo dal 41 in poi erano navi obsolete dal 41 in poi le classi Congo è come dire la Hood la Hood era obsoleta si la Congo è obsoleta certamente sono navi del 1917 comunque no aspetta la Congo è la Congo del 1917 fammi controllare dal 1911 sono navi del 1911 dimmi te se per il 41 sono datate o no lascio a voi decidere comunque normalmente leggere i commenti c'è Pete che dice probabilmente le navi giapponesi erano i sistemi di tiro sparavano a vista quando gli americani in primis gli inglesi avevano il tiro con il radar quindi oltre all'orizzonte e guarda che il tiro con radar a dire il vero è utile fino a un certo punto perché tu vuoi comunque avere la conferma di quello a cui stai sparando vuoi capire se è un accorazzato un incrociatore se sei a cazzo di una nave in particolare come gli americani per esempio a guardare il canale in cui andavano a caccia degli incrociatori da battaglia giapponesi delle classi Congo tu volevi essere sicuro che quelle fossero classi Congo tutto qua poi quando c'era ovviamente ingaggio libero ovviamente sì ingaggiavano con radar ma il discorso qua è che tu vuoi massimizzare l'efficienza dei cannoni finché non ti vedono è tutto stonks per te fondamentalmente Provenom che mi risponde nel senso che quello è il suo campo di expertise ha scritto aspetta ha anche scritto i libri che io ho breve storia della prima guerra mondiale 1 e 2 e Barbero se ne occupa è un passant che non ho idea di come si pronuncia l'ho pronunciato come pensato fosse meglio o chiedono se è meglio il Megac o il C1 Ariete conveniva aggiornare i nostri M60 no l'Ariete è stata la scelta giusta all'epoca io sono convinto che l'Ariete fosse stata la scelta giusta serviva un mezzo radicale all'epoca si anche adesso è fino a un certo senso una scelta giusta a tenere il C1 si Matteo le congo erano state rimodellate negli anni 30 però nessun cambio è stato fatto all'armamento principale al sistema di tiro erano sempre quelli Barbero è uno che crede nell'importanza del contributo alleato nella prima guerra mondiale anche io credo nell'importanza dell'aiuto alleato nella prima guerra mondiale onestamente niente locomotive niente logistica per dire a me una banalmente beh certo considerando che la maggior parte dello sforzo logistico era tutto su ferrovie e quando siamo retrati quando ci siamo ritirati fino al Piave da pensare da quanto si è ridotta la linea la catena logistica rispetto all'Isonzo quando il Friuli non aveva quasi neanche ferrovie c'è Parabellum che dice ancora che Barbero deficita di preparazione specifica lo si evince dalle citazioni che fa tutte da vecchi libri di Hart Fraser memoriali roba debancata ok io l'attenzione è che io e Parabellum scusate io raga piccolo anticipo io e Parabellum tra un paio di mesi faremo un video assieme sul mio canale riguardante la guerra del golfo e la differenza tecnologica tra gli Abrams e i T-72 fondamentalmente dell'epoca che avevano gli iracheni capito signorino c'era un signorino che aveva fatto un video sulla battaglia sulla guerra in Iraq e aveva cannato quasi tutto quello che ha detto per capirci diceva che citava un libro poi alla fine l'ha cannata quindi vabbè andiamo avanti con le domande come volevi dire scusa benessere non mi ricordo più ah scusami scusa no cos'è che aveva ah si di Barbero ha citato addirittura adesso non mi ricordo in che documentario intervista i libri di Paul Carrer cioè non so se vi rendete conto no io non mi rendete conto fino adesso cioè è come se io dico vogliamo parlare di 8 settembre e leggete Trizino quando Trizino è proprio la pessima fonte che possa esistere sopra la faccia del globo eh nel certo senso sì allora chiedono se la classe Nagato abbia un impatto abbastanza profondo della guerra la risposta è assolutamente no ne avevano solamente due due navi non ti cambiano il corso di una guerra esattamente come con la Yamato la Musashi due navi non cambiano il corso di una guerra specialmente se sono navi che da lì a un po' diventeranno non conveniente tutto qua come il discorso di pochi tigre non cambiano le sorti della guerra allora chiedono una cosa interessante la differenza cioè Laurent che chiede la differenza tra l'incorciatore e il cacciatore penieri le fregate che servono allora le navi si classificano in base alle dimensioni e l'utilizzo ok si va da motopattugliatori che sono in genere barchine di 20 massimo 30 metri che hanno il solo e unico scopo di fare pattuglia vicino alle coste diciamo entro un tot dalla costa dipende dall'autonomia che gli dà i motori sono principalmente amate di siluri nella seconda mondiale erano principalmente amate di siluri adesso più di razzi armamento leggero e armamento leggero anche nella seconda guerra mondiale l'obiettivo è falciare tutto ciò che si avvicina alle coste nello stretto di surgaio per esempio spero di averlo pronunciato giusto per averlo un numero per le palle nello stretto di surgaio praticamente fecero un bel po' di confusione perché presero assilurate le navi giapponesi che stavano passando e sono piccole non le vedi arrivare e questo è il loro vantaggio essere piccolo l'avere comunque dei siluri su rigao hai ragione scusami le moto siluranti le moto siluranti secondo me erano proprio secondo me era l'arma più sottovalutata delle varie marine perché erano piccole veloci e letali tanto una qua le snell boat battagli veloci al comando di smith lo chiamavano il corsario dell'adriatico ha fondato il quintino sella con una nazione meravigliosa vogliamo dire anche i tedeschi vicino alle coste inglese sì l'arma principale era la moto silurante infatti anche lì le grandi corazzate caccia torpediniere secondo me sommergibili moto siluranti e crei parecchi danni le flotte avversarie soprattutto per quanto riguarda la battaglia costiera sommergibile di giorno e il barchino di notte semplicemente esatto anche perché una moto silurante la nascondi tranquillamente dietro un'insenatura una piccola baia e cioè insomma poi è bassa ecco comunque per dirvi si parla adesso di fregate le fregate come dice benissimo Parabellum salvano la frutta mercantina alleata nella guerra del pacifico sì perché le fregate sono uno step up dal moto patrugliatore sono tutto ciò che arriva fino a circa 100 metri sono queste navette che fondamentalmente sono appunto piccoline comunque classificabili come navi e sono generalmente equipaggiate di cannoni di medio basso calibro di mitragliere antiaere di siluri e soprattutto di bombe di profondità questa è la loro arma più micidiale in base a quello che è successo anche nell'Atlantico le fregate hanno le fregate insomma le fregate in generale in ambito secondo grammo mondiale ci sto parlando comunque ma sono anche al giorno d'oggi molto comuni soprattutto in quella italiana sono adesso in Italia per esempio sono la spina dorsale della nostra marina le fregate perché sono non troppo grandi non troppo piccole bene o male fanno loro lavori che a sto per inire a noi non servono veramente tanto sono navi troppo grandi le fregate erano eccellenti per scortare missioni antisommergibile operazioni di salvataggio erano navi che non erano né troppo grandi come un cazzo troppo inire né troppo piccole con poca autonomia come un motopattugliatore erano giuste per i lavori di scorta hanno scortato i mercantili le porta aerei altre navi da guerra il loro ruolo principale era il supporto ok dopo ovviamente delle fregate ci sono anche di diversi tipi se vogliamo andare nei dettagli ci sono le le caccia sommergibili le le cacciamine o quelle fatte apposta per minare il mare ecco anche lì si apre tutto un mondo di navi comunque dalle fregate in su ci sono i cacciatori peninieri i cacciatori peninieri sono navi che arrivano fino a queste qua si basano sempre in base a dimensioni si arriva fino ai 130-150 metri sono navi che sono armate di armamento di medio calibro principalmente si va dai 90 mm mentre i giapponesi fino ai 127 americani e via di lì e sono navi che fondamentalmente sono cambiate è cambiato il loro concetto attraverso le aeree prima guerra mondiale i cacciatori peninieri non è una cosa nuova avevano principalmente armamento dedicato a colpire i motopatugliatori le caccia torpediniere le torpediniere sono un tipo di motopatugliatore armato di siluri ok le caccia torpediniere erano nate per combattere i motopatugliatori fondamentalmente poi si sono evolute i navi da supporto sono diventati come delle fregate con gli steroidi tante armi anche di alto calibro come i 127 per dirvi un po' io mitragliere da 20 mm da 40 mm avevi navi che erano armate di 5-10 anche 20 siluri in alcuni casi avevi tantissimi armamenti di profondità ma sempre mantenendo una grandissima lucita di punta e una grande flessibilità nell'impiego infatti anche loro fecero tutto dalla scorta operazioni di siluri di sottoramento caccia di sommergibili anche loro erano fatte per un reinstitazione più ampio solo che all'epoca i caccia torpediniere avevano più ruolo di supporto alle flotte erano l'arma di supporto alle flotte militari perché mentre la fregata copriva i mercantili perché più piccolina più contenuta il caccia torpediniere che era più grande aveva proprio lo scopo di proteggere le navi da guerra più grandi ecco al giorno d'oggi i caccia torpediniere sono l'arma sono l'equivalente delle corzate per la marina italiana sono le navi più grandi che abbiamo le navi da guerra senza contare le portiere più grandi che abbiamo sono fatte per arrivi lì e nel giro di un aperitivo spazzi via il tuo nemico questa è l'idea moderna di caccia torpediniere per noi altri tuttavia all'epoca era un'unità di supporto passiamo incrociatori leggeri incrociatori leggeri sono come dice il nome incrociatore delle navi che devono essere in grado perché in inglese il nome è cruiser sono in grado di fare cruising cioè di muoversi da un punto all'altro molto in fretta insieme ai caccia torpediniere e il loro ruolo è letteralmente quello di tutti gli incrociatori in generale quello di potersi muovere velocemente portando un serio armamento e adesso cominciamo a parlare di armamento serio passiamo dai canoni da 105 scusa dai 150 ai canoni da 300 adesso si va a parlare di un armamento molto vario gli incrociatori sono le navi che avevano il più vario tipo di armamento di tutta la seconda guerra mondiale ma andavi dai dai loro canoni principali da 250 e arrivavi alla mitragliera da 20 mm alcuni avevano i siluri alcuni avevano le bombe di profondità alcuni avevano l'armamento anti-aereo un armamento anti-aereo consistente alcuni avevano più un'artiglieria consistente e gli incrociatori leggeri fondamentalmente hanno una cosa molto particolare non hanno protezione in alcuni casi oddio o in alcuni casi tipo nel caso delle classi Cleveland di incrociatori americani la protezione era minima e rilegata solamente alla sala macchina al giorno d'oggi un incrociatore sono praticamente tutti leggeri non sono corazzati sono navi che sono fatte per portare più armamento di sono fatte per portare più armamento di un cazzo un tipo di corazzatura può essere la corazzatura omogenea da avanti e dietro o la corazzatura all or nothing che è fondamentalmente la corazzatura tutto o niente che consiste nel corazzare la nave dalla stiva munizione frontale alla stiva munizione posteriore alcuni incrociatori pesanti invece avevano una cintura corazzata e basta senza ponte né casa matta né niente e loro invece avevano i canoni più grandi degli incrociatori quindi carirono fino a 300 e passa a millimetri adesso arriviamo al discorso incrociatori da battaglia e corazzate sono quasi la stessa cosa ma seguitemi perché c'è una piccola differenza tra due l'incrociatore da battaglia è una nave che è fatta per andare veloce è come un incrociatore è sì e no come un incrociatore pesante con più armi con un armento più potente e consistente e lo stesso livello di protezione è fondamentalmente una corazzata con la protezione di un incrociatore è fatta per andare veloce è fatta per fare dei ride molto veloci su coprire una flotta in generale ripeto armamento di corazzata su scafo sempre di una corazzata però non è protetto ecco la corazzata invece è protetta anche il concetto di corazzata è cambiato cioè sono passati dalle pre-dreadnought alle dreadnought alle super dreadnought alle corazzate veloci ok fondamentalmente questa è stata l'evoluzione le pre-dreadnought sono navi che hanno una torretta davanti una torretta dietro e cannoni tutto attorno spartagliati una dreadnought è quel tipo di navi che hanno più torrette messe sovrasparanti una sopra l'altra in questa maniera qua di lato dietro ma torrette vera e proprie principali corazzate monocalibro sono corazzate che hanno tantissimi canoni principali e pochi secondari poi hanno le super dreadnought che hanno la differenza è che hanno la corazzatura di concezione diversa che non solo va a proteggere lo scafo ma anche la santa barbara le case matte dei cannoni e queste cose qua corazzate veloci sono navi veloci sono corazzate fatte per andare veloci generalmente utilizzano la corazzatura tutto o niente perché appunto ti fa risparmiare un po' di peso infine abbiamo le portaere le portaere sono anche qui di due tipi leggeri di scorta o pesanti corazzate o non corazzate e fondamentalmente hanno il ruolo di supportare flotte mercantili come nel caso delle portaere leggere hanno il ruolo di magari supportare la fanteria con armamento antiterrestre e dopo le portaere corazzate o non corazzate di cui ho parlato prima ok spero di aver risposto tutte le domande delle navi da guerra anche se vedo che parabello dice che le portaere sono tutte quelle che non hanno un monocalibro non c'entra la disposizione della torrenta c'entra anche un po' quello sai che sono serie a come le hanno fatte ma che non sia una coincidenza in effetti ecco credo di aver detto tutto per quanto riguarda le navi da guerra adesso leggo un po' di commenti scusa Venezia per il scusate tutti per se mi sono messo a parlare vai tranquillo anzi hai fatto un'ottima escalation del del naviglio dei mezzi navali già 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 c'è Paravellum che dice che gli alleati non avevano abbastanza destroyer per scortare i cacciarmai neri e quindi produssero fregate a profusione che però erano state non sono adatte per un oceano l'equipaggio stava bagnato per giorni storie tristi in realtà sai il discorso era non era tanto il fatto che erano fatte per l'oceano era più il fatto che l'avevano pensato per questa cazza qua sono molto sembra una cazzata ma sono difficili da rovesciare quelle navi lì se non ci si mette anche di impegno proprio prendono le onde di lato non ce la fa a rovesciarle sono fatte apposta per affrontare quelle condizioni però essendo navi piccole i cacciarmai neri l'oceano lo prendono male è una conseguenza dell'essere piccoli che poi per dire ci sono stati casi in cui la forza del vento ha spaccato le navi non per dire le forze delle onde hanno spaccato le navi e questi qua sono casi reali durante le tempeste purtroppo allora Gabriele Fuchs ha detto entro il prossimo giro l'obsolescenza si porterà via il 25% della aspetta 25% della marina italiana fonte l'IMS sarà da ridere sai che io non cioè ditemi quello che volete ma senza marina non si fa un cazzo bisogna proteggere le acque in qualche modo io si parla del come si chiama si parla del film Greyhound io il film Greyhound non l'ho ancora visto raga perdonatemi in Greyhound si vede una fregata corvetta canadese che aiuta il destroyer di Tom Hanks si l'altro sono tutte quelle che non hanno un monocalibro non c'entra la disposizione della torretta ok va bene però se me lo dici te io ti credo c'è Pete che fa una domanda idiota dice lui ma la Dreadnought prendono il nome dall'HMS appunto Dreadnought si è stata la prima ad avere quella ad avere quel concetto lì ecco bene io siamo a a quanto siamo si parla sempre di navi aerei ma vai di elicotteri Giuseppe gli elicotteri sono delle unità allora brevemente gli elicotteri hanno cominciato ad avere il i primi diciamo i primi ruoli nella guerra di Corea il loro obiettivo principalmente era andare a recuperare i piloti che venivano abbattuti andare a fare i voli dall'entrata la nave l'altra consegnare la posta e queste cose qua sono navi che non erano a porta aeree da lì in poi però il concetto di elicottero si è voluto tanto si è passati dalle gunship si è passati agli elicotteri da trasporto tipo i Chinook o gli elicotteri per l'affanteria come gli Huey o i M24 M24 beh dimentichi l'UH1 utility adatto per qualsiasi ruolo il B17 della guerra del Vietnam il B17 non era per qualsiasi ruolo il B17 era un bombardiere no 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 dicevo è stato definito lo Huey l'UH1 come il B17 della guerra del Vietnam perché era appunto una cannoniera forse per come si ma a parte quello forse per come è stato impiegato in massa questo proprio detto da un pilota di UH1 sì beh dei piloti adesso non per fare il cattivo dei piloti bisogna più ascoltare ecco chi ha visto la situazione dall'alto più che il pilota singolo comunque sì gli elicotteri ancora oggi giocano un ruolo fondamentale risolvono il problema del poter cioè risolvono il problema la domanda dove cazzo a terra adesso esatto ovunque la risposta ma poi in Vietnam in Vietnam anche come sforzo logistico riuscivano a rifornire magari un caposaldo sopra una collina o un alto piano una montagna e arrivavano senza bisogno di aspettare lunghe corvè insomma ora che arrivassero a piedi o magari con spinti con animali o con qualche far arrivare una strada con l'elicottero ci mettevi la metà del tempo ed era tutto più semplice se non lo tiravano giù io qua un giorno all'altro devo trascinare una persona che ho costruito recentemente che è un grande appassato dell'elicottero ho capito se intende parecchio c'è Paravellum che dice una cosa che è assolutamente vera e posso confermarvelo basta andare su qualsiasi Yui ogni Yui quando viene costruito aveva un pulsante sopra la cabina in cui attivava un mangianastri con la cassetta di Fortunet Son è fattuale andate su qualsiasi Yui anche fatto dalla mangusta gli americani hanno insistito un sacco per noi farci montare il mangianastri con la cassetta di Fortunet Son ed era non era neanche rimovibile per capirci c'era il pulsante tipo si va all'attacco clic Fortunet Son ecco come le trombe Gerico però con Fortunet Son e sono tutti i meme tipo quando sei un contadino nord vietnamita e senti gli elicotteri cantare Fortunet Son bellissimo è strano che non abbiano messo che non abbiano installato la cavalcata delle varchie anche quella là insomma i phantom dovevano mettere la cavalcata delle varchie ah anche si invece sapevi sapevi per bello invece che gli F14 avevano il tastino per Danger Zone va bene io raga siamo a quanto siamo di live siamo circa sì siamo quasi a due ore di live raga io per quanto resta qua mi hai finito a ridere ma è meglio che stacchiamo tutti quanti per chi mi vuole per chi mi cerca o chi ci cerca mi troverà mi troverà su Discord sul mio server link in descrizione insieme al gruppo Telegram insieme al gruppo Telegram bene da Pitarumono è tutto riposo soldati riposo soldati